E allora amici di Calciopazzo, come vedete dal mio sfondo dietro, insomma una leggera simpatia per l'Avellino, traspare sia per il colore sia per i lupi, non perché abbia origini campane, ma vorrei che un giorno presto l'Avellino tornasse in Serie A. Beh, credo che questa non sia la stagione per una marcia di avvicinamento, anzi io credo che se continua così bisogna anche guardarsi un po' alle spalle perché in questo momento l'Avellino, se non sbaglio, è in zona play-out, possiamo andare a vedere chiaramente la classifica, anche se ancora delle partite devono essere giocate, però ecco insomma, tenete presente che l'Avellino sta a 14 punti e il Rieti, di cui abbiamo raccontato precedentemente, è una squadra che non prende i soldi da luglio, che gli sta a 12, poi ci rende, bisceglie, sicura le 11 a 10, per cui siamo là, insomma, tanto tranquilli, non è che ci si possa sentire per gli Irpini, dopo la sconfitta di settimana scorsa che abbiamo raccontato contro il Potenza, oggi il derby contro la Casertana, sappiamo insomma, perdere i derby fa sempre un po' più male, nonostante la buona partenza, perché era partita anche bene con il palo di Ciarpentiera al sesto, che poi tra l'altro ha fatto soltanto quello, perché oggi non è riuscito mai a mettersi in evidenza, c'è stato quasi subito il gol, dopo un paio di minuti c'è stato questo palo, ribattuta, starita, interviene, gol, e poi l'Apellino ha provato a rialzarsi, qualche occasione, quella di Zullo che si è divorato il pareggio, poi la partita è un po' stagnante, è stata una bella partita un po' stagnante al centrocampo, nel secondo tempo un paio di occasioni per la Ezza, anzi prima c'è stato il raddoppio, il raddoppio dell'ex D'Angelo, è arrivato proprio allo scadere del primo tempo nel recupero, poi un altro paio di occasioni nel secondo tempo con la Ezza, un'altra occasione per Zullo, però alla fine poca roba caro Ezzolino, poca roba, ci aspettiamo qualcosa in più, perché altrimenti la vedo male, io credo che quest'anno per l'Apellino il compito di Capuano sarà quello di ottenere la salvezza, qualche altro risultato, ecco il Bari, col solito Antenucci che ha vinto contro la Paganese, il Rende che ha battuto il Picerno e questa non scevoleva, perché comunque il Rende mi raggiunge quota 10, e quindi anche lì si avvicina, poi adesso dovranno giocare Potenza Vibonese, Viter Besecavese e Catanzaro Catania, intanto è iniziata proprio adesso Teramo, no stanno all'intervallo Teramo-Ternana, per cui ecco, insomma un risultato che non ci voleva, un'altra sconfitta che non ci voleva, speriamo di risollevarci nelle prossime partite, un saluto, una buona serata a tutti e sempre caccio paccio.